Dimmi, cosa vedi? Uno stilista? Un barbiere? Ma ogni volta che crei, innovi. Che rendi felice un cliente? Hai un team di più di mille persone che cercano di andare oltre ogni giorno. Tu sei l'artista, ma ogni volta che lavori, ci porti tutti con te. A me, e a me, e a me, e a me, e a nosotros. A me, e a me, e a me. 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 A me, e a me.